L'Europa dei giovani, opportunità e prospettive. Questo il tema del convegno svoltosi presso la Sala Blu del Carcere Borbonico, a cui hanno preso parte i candidati all'Europee per Forza Italia, Aldo Patriciello e Antonella Pecchia. L'europarlamentare uscente Patriciello si sofferma sulla necessità di dare ai giovani la possibilità di mettersi in gioco. Chi vuole fare politica ha la possibilità, ci sono le condizioni, ma soprattutto credo che i giovani integrati con chi ha esperienze, un mix tra giovani e meno giovani, sono importanti per ridare quello solange alla politica, perché bisogna riavvicinare i cittadini a fare politica. Questo significa avere fiducia nelle azioni che si portano avanti, la credibilità. Spesso i giovani si sono allontanati perché hanno visto una politica che era per loro un impedimento. Invece noi dobbiamo lavorare in senso opposto, cioè riportare alla politica, al buon senso, la classe dei giovani. Antonella Pecchia, invece, focalizza l'attenzione su Erasmus Plus e le opportunità internazionali a favore dell'istruzione, formazione, cittadinanza e volontariato. Le opportunità sono tante. Io, con il mio lavoro in Europa, laddove dovessi diventare un giorno parlamentare europeo, cercherò di dare maggior spazio ai giovani del Sud. Le opportunità sono tante. Erasmus Plus è un'opportunità pazzesca che, se viene colta dai giovani, sarà fondamentale per il proprio percorso di formazione e non solo. L'Europa può dare tanto. Dalla libertà di circolazione alla libertà di circolazione di merci, servizi, di stabilimento, possiamo avere dei giovani che, in ambito europeo, dal Sud, possono percepire tanto e portare quelle che sono le proprie competenze qui al Sud per svilupparlo. Grazie. Grazie. Grazie.